Chi è Martina Attili? La vita privata, la carriera e le passioni della cantante di X Factor 12 della categoria Under Donne di Manuel Agnelli. Punto al via la fase finale di X Factor 12 con i 12 concorrenti che vanno a formare le quattro categorie che si sfideranno per decretare il vincitore dell'edizione 2018. Stiamo ormai entrando nel pieno dell'edizione, e ormai i ragazzi stanno entrando nel cuore del pubblico. Nella categoria Under Donne, capitanata da Manuel Agnelli, c'è una ragazza che sin dalla sua prima esibizione sul palco del programma ha emozionato e suscitato tanto interesse non solo nei giudici, ma anche nel pubblico. Stiamo parlando di Martina Attili che con la sua chiarofobia ha conquistato tutti. Ma chi è Martina Attili? Conosciamo meglio questa giovane cantautrice che ha già alle spalle molti successi. Chi è Martina Attili? È da, famiglia e mondo dello spettacolo. Martina Attili ha 16 anni ed è nata a Roma da una famiglia di animatori. Il lavoro dei suoi genitori l'ha quindi portata sin da piccola ad amare il palco e a starci subito a suo agio. Ha frequentato l'Accademia dello Spettacolo Italia e successivamente l'Accademia degli Artisti. Nonostante la giovane età, ha avuto ruoli di comparsa in varie serie tv e fiction italiane Un medico in famiglia, che Dio ci aiuti, l'onore e il rispetto. Ma il suo grande amore è sempre stato la musica e, come lei stessa ha raccontato, è cresciuta a Pani, Burro e Renato Zero. Il suo sogno, quindi, è quello di diventare cantautrice. E proprio a tal proposito, nel 2017 Etta ha rivinto il premio Piero Calabrese e Are a Sanremo con il brano Un Incubo ogni giorno. Ha scritto la sua prima canzone a otto anni sulla sua frangetta. Chi è Martina Attili di X Factor 12G, Cherofobia è la musica che la Salvata Martina si è presentata ai provini di X Factor con un suo inedito Cherofobia. Il pubblico, quindi, non solo ha imparato un termine nuovo, ma ha anche scoperto questo tipo di malattia, cioè la paura di essere felici. Martina ha iniziato a scrivere canzoni seriamente all'età di 14 anni e ha detto che la musicale ha letteralmente salvato la vita. Ha rivelato che cambia modo di essere quando si trova sul palco e quando invece non lo è. Chi è Martina Attili? Instagram e Mondo Social è una ragazza molto timida e riservata al di fuori del contesto musicale. Preferisce passare la maggior parte del tempo da sola perché ha difficoltà ad aprirsi con gli altri fino a quando non li conosce in modo più approfondito. Martina è comunque molto attiva sui social e il suo profilo Instagram vanta 221.000 follower che sono aumentati in maniera esponenziale dopo la sua prima esibizione a X Factor. Sui social ha anche creato l'hashtag cancelletto Attilina Powe che starebbe a significare il potere delle persone di scegliere di essere felici realizzando i loro sogni. Proprio come lei stessa ha detto l'Attilina Powe è un fantastico potere di cui sono dotate tutte le persone senza saperlo il poter scegliere di essere felici. Avere così tanta determinazione da riuscire a realizzare tutti i propri sogni. Punto un post condivisi da Martina Attili official chiocciola Martina sottolineatura Attili in data 823, 2018 e 842 Pd la cantante, giunta in semifinale, ha conquistato l'intero pubblico, che vuole vederla assolutamente accedere all'ultima puntata. Riuscirà Martina a guadagnarsi un posto? Novella 2000 copyright riproduzione riservata. Riuscirà Martina a guadagnarsi un posto?